Ok, posiziona il palmo della tua mano sullo sterno, proprio al centro del torace, esattamente tra i capezzoli, assolutamente, metti il bivovoce così riesco a seguirli tutti e due, d'accordo? Perfetto, mi sentite tutti? Signora mi sentite? Ok, posiziona il palmo della tua mano sullo sterno, al centro del torace, esattamente tra i capezzoli, ok? Metti l'altra mano sopra quella mano, facciamo le compressioni, devi comprimere con forte il torace, rapidamente almeno due volte al secondo, per 5 cm, va bene? Di profondità, ok, lascia che il torace si sollevi completamente tra una compressione e l'altra, faremo questo per 600 volte, fino all'arrivo dei soccorsi, d'accordo? Ok? Va bene, ascolta, ascolta, tu che sei al telefono con me, guarda la schermata del tuo telefono e dimmi se ti è arrivato un messaggio, ok, clicca sopra il link che ti è arrivato, riesci? Ho bisogno di vedere che cosa state facendo per aiutarvi, d'accordo? Clicca sul link, dovrebbe, ok, ti compare un riquadro con scritto conversazione e in basso a destra c'è una telecamera, clicca sulla telecamera, hai cliccato? Ok, punta la telecamera sulla persona che state massaggiando, bravi, ok, perfetto, benissimo, tienila così, brava, io vi sto vedendo, vi sto aiutando fino all'arrivo dei soccorsi e l'ambulanza è già stata allertata e arriverà, non riagganciare, io resto al telefono con te il più a lungo possibile, va bene? Ok, ascolta, il ritmo delle compressioni deve essere un po' più veloce, 1, 2, 3, 4, voglio sentirti, voglio sentirti ad alta voce che conti insieme a me, 1, 2, 3, 4, ok, 2, 3, 4, braccia tese, non piedere le braccia, non aver paura di far male, vai, brava, comprimi così, bravissima, bravissima, quando sei stanca, quando sei stanca vi date il cambio, ok, mettete il telefonino per terra, io vi riesco a parlare, vi sento comunque, d'accordo? Brava, continua, i soccorsi stanno arrivando, va bene? Bravissima, allora devo chiedervi una cosa, lo so che è un po' difficile, c'è uno dei due che se la sente di fare la respirazione, a bocca a bocca, io vi spiego come potete fare, se non te la senti non importa, va bene così, allora la cosa importante è che non smettiate mai di massaggiare, d'accordo? Quindi mettiti vicino a lei, perché sarà stanca tra un po', il massaggio sta a stancare, quindi quando lei non ce la fa più, te lo dice e tu ti metti nella stessa posizione in cui è lei, dall'altra parte della persona, d'accordo? Ok, inquadra un po' più distante, ho bisogno di vedere bene lei e le braccia, bravissima, stai andando benissimo e continua così, i soccorsi stanno arrivando, d'accordo? Brava, voi dovete continuare, sì, assolutamente, lo so che è stancante, che è difficile, io rimango al telefono il più possibile con voi, d'accordo? Ok, intanto tu che sei un pochino più distante, cerca di ogni tanto avvicinarti e guarda se vedi se la persona inizia a respirare o se fa dei movimenti, d'accordo? Così lo guardiamo insieme, magari inquadrano, bravo, ok, allora continuate il massaggio, va bene? Bravissimi, sei stanca? Io ti vedo che sei stanca, ce la fai? Se no vi date il cambio, metti giù il telefono, poi lo riprende lei e vi date il cambio, bravo, mettilo a terra, non importa, poi lo ritirate su dopo, metti a terra il telefono, vi date il cambio, 4, 1, 2, 3, 4, 1, bravo, braccia tese, gira il telefono, brava, così, perfetto, ok, non aver paura di far male, vai giù, deve scendere di 5 cm il torace, bravissimo, bravissimo, non piegare le braccia, tienile tese, bravo, bravo, così, fino all'arrivo dei soccorsi, state facendo benissimo, bravo, un po' più veloce, 1, 2, 3, 4, 1, 2, bravo, bravo, così, esatto, ascolta, sta arrivando l'ambulanza, non smettete che state andando bravissimi, bravissimi, l'ambulanza sta arrivando, è già partita, quando sei stanco chiedi alla tua, alla vicina di darti il cambio, va bene? Ce la fai? Ti vedo un po' stanco, ce la fai? Ok, bravissimo, ok, datevi il cambio, bravo, datevi il cambio perché il massaggio è importante, anche più lenta, 1, 2, 3, 4, ascolta me, 1, 2, 3, 4, con questo ritmo qui, bravissima, tienile braccia tese, brava, vai giù, non aver paura di fargli male, vai, bravissima, continua, continua, 1, 2, 3, 4, sento l'ambulanza, sento le sirene, sentite le sirene anche voi? Mi senti? Bravissima, allora, non smettete il massaggio finché non arrivano gli operatori e ve lo dicono loro, continuate che state andando benissimo, continua, continua così, finché non vedo gli operatori, continua il massaggio, bravissimi, 1, 2, 3, 4, vedo l'ambulanza, continuate, non smettete finché non prendono il vostro posto, arriverà un operatore e si metterà il vostro posto, ve lo dice lui, d'accordo? State andando benissimo, bravi, bravissimi, ok, non smettere, te lo dice lui quando toglierti, continua, continua, ok, perfetto, vi lascio, grazie, buongiorno, buongiorno.